Musica Eccoci cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, è un piacere di riavere qui con noi in studio, ormai si è consolidato nel suo nuovo ruolo, Luca Trivellato, presidente, nuovo presidente della CIA di Padova, insomma, ben ritornato. Grazie. Allora, ha dovuto prendere comunque in mano tutta la situazione molto velocemente, non che non fosse preparato già da prima, però purtroppo quando ci sono situazioni anche emergenziali, tanto per cambiare noi saltiamo di emergenza in emergenza, ci sono anche delle problematiche che vanno risolvendo, bisogna cercare di trovare delle possibili soluzioni, o perlomeno dare conforto che dei dialoghi vengano aperti a livello governativo e dare conforto a chi si opera, a chi lavora in questi comparti. Il settore agricolo abbiamo visto che sempre più diventa strategico, ci sono dati allarmanti però che fanno un po' spaventare chi sta al di fuori, che comincia a dire ma cosa sta succedendo, oppure dicono sono fake news, quindi sono notizie solo che adesso un'allarme non è vero, e chi ci sta dentro perché ci lavora e si incontra enormi difficoltà e si sente a volte isolato o incompreso. Questa è la cosa che abbiamo anche riscontrato parlando con alcuni agricoltori di alcuni territori, perché dicono che continua l'allarme cinghiali, hanno devastato delle zone, ma sembra che quasi l'allarme cinghiali non sia più un allarme, non sia più problematico, quando in realtà chi lo subisce ha dei grossissimi danni, ma non è così. Allora facciamo un po' il punto della situazione, da quale, da dove incominciamo? Partiamo innanzitutto dalla situazione climatica, dai, andiamo alla contingenza. È piovuto ma non è piovuto? Beh, ha piovuto, ma ha piovuto troppo poco per quello che serviva al comparto agricolo. Qualcosa è sempre meglio di niente, però la situazione rimane di estrema problematicità. La soluzione, sono ovviamente sperare in maggiori precipitazioni, ma è chiaro che con i cambiamenti climatici in corso le soluzioni vanno trovate anche attraverso investimenti mirati che permettano, da un lato, di trattenere l'acqua quando ce n'è troppa e dall'altro lato di rilasciarla quando ce n'è poca. Questo si fa attraverso gli invasi a monte, quindi, della valle e in maniera da modulare l'afflusso di acqua sia per le attività agricole ma anche per tutti quanti noi, insomma. Presidente, la vostra attività, ma ne abbiamo parlato anche in passato, è in qualche modo correlata da questo punto di vista con il ruolo che svolgono i consorzi di bonifica, in cui, lo so, se mi rivolgo i cittadini, tanti dicono questi consorzi di bonifica, poi che cosa servono, si sa che si devono pagare ma non si capisce il loro ruolo, eccetera. Però in realtà, più che mai in questi momenti, torna importante un'interrelazione. Voi poi siete entrati anche nei consorzi, in qualche modo, perché si era ravvisata l'importanza che l'agricoltura ci fosse, no? No, assolutamente. Nei consigli di amministrazione o comunque nei consigli dei consorzi c'è la rappresentanza anche del mondo agricolo. I consorzi sono il cervello e i muscoli per la gestione idrogeologica dei nostri territori. È attraverso questo tipo di enti che vengono manutentate tutta la parte irrigua, per cui canali irrigui di proprietà del consorzio e che vengono gestiti anche il flusso e deflusso delle acque. Ecco, non dovrebbero intervenire, cioè far qualcosa in più questi consorzi di bonifica in modo tale che poi queste acque quando arrivano, perché quando arrivano c'è anche paura quando arrivano, l'abbiamo anche visto, vengono incanalate in modo congolo e quando non ci sono si trovano dei sistemi alternativi, quindi attivarsi un po' di più per aiutare soprattutto l'agricoltura. Sono necessari investimenti soprattutto, cioè quando noi parliamo di fare invasi a monte parliamo di opere importanti sotto il profilo economico e finanziario, per cui speriamo anche col PNRR che si comincia a ragionare non sempre di mettere una soluzione al problema emergenziale ma di ragionare in prospettiva e in programmazione soprattutto. In questo sicuramente i consorzi giocano un ruolo importante nell'identificare le aree nelle quali fare l'invasi e nei quali provvedere a migliorare la situazione idrogeologica. Ci sono già in cantiere diverse opere che riguardano l'irrigazione già da ora. È chiaro che con i cambiamenti climatici questa situazione va peggiorando e deve essere affrontata in maniera ancora più decisa. Voi avete modo di agire in qualche termine per aiutare un po' gli agricoltori? Perché adesso abbiamo avuto anche segnalazioni che devono provvedere, consumando energia, all'irrigazione di determinati territori per il frumento, per l'orzo, per la barbabietola e per altri seminativi. Perché acqua non è sufficienza? Cosa possono fare questi agricoltori? O ci sono dei finanziamenti da questo punto di vista? Settore irriguo stiamo parlando. Allora in questo momento nel periodo emergenziale è stato fatto un decreto che permette un credito d'imposta del 20% per l'utilizzo del gasolio. Purtroppo il decreto parla solo di gasolio uso trazione agricola, per cui solo per i trattori fondamentalmente. Come CIA a livello nazionale abbiamo presentato un emendamento richiedendo da un lato il prolungamento di questo credito d'imposta perché scadeva il 31 marzo ed è stato licenziato il 24-26 marzo, per cui con pochissimi giorni di preavviso. E dall'altro lato che si vada a modificare questa norma perché ovviamente sia per quanto riguarda l'irrigazione, ma anche per quanto riguarda tutto il settore florovivaistico, per cui il riscaldamento delle sere e anche per il settore d'allevamento, per quanto riguarda il riscaldamento delle stalle, l'eventuale necessità di riscaldamento nelle stalle rimane assolutamente escluso da questo provvedimento. Ed è una cosa che riteniamo soprattutto in questo periodo nelle difficoltà internazionali che ricascano sul settore agricolo è necessario intervenire con molta più decisione. Ecco, noi c'è nato il discorso del gasolio per trazione e qui ci colleghiamo automaticamente al rincaro dei carburanti. Voi avete anche auspicato, ma non solo voi, tante altre categorie tra l'altro e anche in altri ambiti che si lavori seriamente sulle accise o che l'IVA venga annullata, che si provvede almeno per quel che riguarda le tasse, perché non è più sostenibile questo corso del carburante. Noi abbiamo presentato giovedì scorso una lettera, un documento al prefetto in maniera coordinata tra tutte le province della regione del Veneto che prevede delle misure urgenti che chiediamo che vengano prese per quanto riguarda i costi del lavoro in agricoltura. Questo perché? Perché gli aumenti che ci sono nei costi fissi non sono, per quanto riguarda il settore agricolo, non sono stati immediatamente assorbiti dal prezzo di vendita dei nostri prodotti. Cosa significa questo? Che se già prima il nostro mondo aveva una marginalità estremamente bassa, si parla del 12-16% del prezzo del prodotto finito che andiamo a acquistare nei supermercati, è chiaro che l'aumento dei costi fissi rischia, anzi in alcuni settori come l'allevamento, come la parte lattiero casearia, produce un lavoro in perdita. Quindi vanifica qualsiasi tipo di intervento, però d'altra parte aumentare il prodotto finito non ce n'è più, non c'è mercato. Ed è per questo che chiediamo l'intervento da parte del governo e dell'Europa perché vada a incidere su quella parte di costi fissi che si sono aumentati in maniera esponenziale nel giro di poche settimane. Infatti, c'era un messaggio, vediamolo di leggere insieme, un attimo se la ricerca ce la metti in onda. Allora, ma conviene fare un'attività agricola? Quello che vedo è che gli agricoltori sono solo per generazione, non ho mai sentito di nuovi imprenditori, come mai? Beh, visto che lei è anche un giovane imprenditore. Esattamente. Allora, la situazione agricola è estremamente difficile, è chiaro che c'è un elemento di vocazione, però è anche vero che noi parliamo di imprese agricole, cioè di attività che devono essere economicamente sostenibili. Come Cia l'abbiamo sempre detto, teniamo presente tre capisaldi, la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. Questi tre elementi devono convivere per fare in modo che l'agricoltura, che come ha detto lei in inizio trasmissione, è un settore strategico, possa rimanere in vita sana e possa continuare a tutelare e a salvaguardare il territorio. Perché noi siamo a Padova, siamo in città e c'è un certo tipo di agricoltura, però pensiamo alle aree montane o alle aree marginali, cosa potrebbe succedere se le aziende agricole non fossero presenti. Cioè la natura vista come museo della cera, come situazione stabile, nella quale l'intervento umano è, come dire, passeggero, invece che fondamentale per la manutenzione, è una visione assolutamente sbagliata. Per cui le aziende agricole devono sopravvivere, è necessario ragionare proprio in una situazione come questa, quindi di strategicità dei settori, come fare in modo che l'impresa agricola sia sostenibile per chi ci lavora. Ecco, tra l'altro bisogna stare anche molto attenti a questo punto di vista, perché tanti vedono un po' l'agricoltura, mi dedico all'agricoltura, rilevo un'attività che magari non sta andando bene, oppure compro dei campi, dove trovo, compro dei campi, ma bisogna ragionare in termini di impresa agricola, quindi siete mai imprenditori sotto tutti i profili, quindi fare valutazioni anche di mercato, di prospettiva, quindi non più fine a se stesso, anche un giovane che rileva l'attività di famiglia, deve ragionare da imprenditore, in senso tecnico proprio. Assolutamente, non si può ragionare senza un bilancio, senza un business plan, senza un ammortamento dei macchinari, un calcolo, diciamo, economico della propria attività. Si rischia di chiudere altrimenti. Si rischia assolutamente di chiudere, non solo di chiudere, ma di farsi anche male. Lei consiglierebbe ad un giovane con 100 mila euro in tasca di mettersi in agricoltura e in quale settore, grazie? Forse sono pochi 100 mila euro. Sì, diciamo che i capitali per iniziare un'azienda agricola, per pensare a un avviamento e a un consolidamento di settore di mercato, sono sicuramente superiori quelli da mettere in conto. In questo ovviamente soprattutto un giovane può permettersi di ragionare attraverso i fondi che vengono dati dalla comunità europea e quindi all'interno del piano di sviluppo rurale e attraverso anche l'aiuto di cofinanziamenti riuscire a mettere in piedi un'azienda sana, perché iniziare l'attività agricola non c'è nessun problema, il problema è mantenerla dopo. Infatti, attenzione ai finanziamenti, perché poi questi soldi non è che ti arrivano e non devi tornare, devi restituirli, devi fare un business plan tale per cui devi rientrare delle spese sostenute che stai sostenendo e dei finanziamenti che hai ottenuto. Sì, i finanziamenti normalmente sono o a fondo perduto, quelli per i più giovani, oppure in riduzione di interessi per i mutui e in compartecipazione per mutui o accessi finanziari delle banche. A questo punto rivolgersi all'associazione di categoria per farsi fare un quadro un po' generale delle prospettive, se con quel budget uno riesce in qualche modo a fare qualche cosa. Assolutamente uno studio preliminare, è fondamentale per iniziare qualunque attività, anche un'attività agricola. L'ulteriore difficoltà del mondo agricolo è quello che stiamo vivendo anche oggi, un'estrema volatilità dei prezzi, la problematica dei cambiamenti climatici, però dall'altro lato ha anche una grande soddisfazione di mantenere un territorio e di dare un'opportunità a chiunque di riuscire a lavorare nel mondo agricolo. Torniamo insieme, tra poco abbiamo la pubblicità.